Perché se no mi dice sempre che la tiro dentro domande politiche, ma ne aggiungo anche un'altra che diciamo non è politica, quella dei vaccini, la sollevata Beppe Severnini, sulla situazione dei vaccini non abbiamo avuto molte informazioni questa sera, anche perché questi vaccini ancora stentano ad arrivare. E proprio oggi due paesi dell'Unione Europea, l'Austria che è governata da Popolari e Verdi e la Danimarca che è governata da socialdemocratici, hanno deciso di cercare i vaccini al di fuori degli accordi dell'Europa. Fanno bene, dovremmo farlo anche noi e lei pensa che il Presidente del Consiglio Draghi dovrebbe, come si suol dire, metterci la faccia ogni volta che ci sono dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Io ritengo che il Presidente Draghi abbia fatto una scelta per cui credo sarà presente e sarà presente su questioni in cui riterrà necessario dare messaggi molto importanti e senza possibilità che ci possano essere discussioni o scarse chiarezza in proposito. Per quanto riguarda il DPCM è sicuramente importante, ho appena finito di dire che secondo me non è improbabile che possa essere cambiato in corsa, più importante sarà che magari dia un secondo messaggio dopo il primo già rilevante che ha dato sui vaccini. Per quanto riguarda il discorso di fare il vaccino all'italiana, io francamente nel momento in cui fosse ancora possibile resistere a questo tipo di tentazioni, resisterei, ritengo che la via maestra rimanga quella di ottenere attraverso l'Europa il vaccino necessario, le posizioni di due Paesi non grandi dal punto di vista dell'estensione e della popolazione, come quelle che hanno preso una decisione oggi, si spiega anche in parte proprio per il fatto che comunque il quantitativo di vaccino a loro necessario non è enorme per risolvere il loro problema, ma non fa un buon effetto rispetto alla unità in generale delle iniziative dell'Europa messe già abbastanza in crisi da altre uscite come, non so, quelle ungherese, per fare soltanto un esempio. Resta il problema serissimo dell'approvvigionamento dei vaccini sia a breve che a lungo termine e perlomeno per il discorso a medio-lungo termine ribadisco che ritengo che sia necessario prendere dei provvedimenti che ci consentano una discreta autonomia. Ma quale potrebbe essere un provvedimento efficace, professor Galli? E con tempi medio-lunghi purtroppo l'adeguamento di impianti italiani alla produzione di uno o più dei vaccini su licenza, di uno o più dei vaccini attualmente in uso e degli eventuali loro aggiornamenti, sottolineerei degli eventuali loro aggiornamenti. Perché andranno aggiornati man mano che il virus muta. Avendo una volta tanto l'occhio lungo, insomma. Certo, certo. Potrebbero e comunque non ci dobbiamo far trovare impreparati perché altrimenti il vaccino come strumento di redenzione generale rischia di essere uno strumento invece di sofferenza e maledizione, voglio dire. Chiaro. Sto esagerando, chiaramente. Certo, certo, no, no, ma è chiaro il concetto. Beppe Sevenini e poi Michela Mugia.